Questa è una storia davvero strana, un errore, una coincidenza, oppure destino. Mercoledì a Danz non si è raccolta di essere arrivata nel posto sbagliato. Non è una novità, da quando si è messa in testa di consegnare pizza di domicilio, gli errori sono sempre all'ordine del giorno. Ma questa volta è capitata nello scuro castello che da qualche tempo ospita il conte Dracula in carne e d'ossi. Chi osa disturbare il mio riposo, la luce del sole è ancora alta. Però tu guarda, visto che ultimamente il sangue scarseggia, una pizza ogni tanto ci può anche stare. Mercoledì, ma cosa hai combinato? Da quando hai in testa di consegnare pizza di domicilio, soltanto un sacco di guai. Era meglio se continuavi a giocare con le tue bambole dalla testa tagliata. E tu, caro conte Dracula, fermati, quella pizza non è per te. E tu, cari! E tu, cari! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.